Ciao a tutti! Oggi facciamo una variante davvero gustosa e perfetta per questo periodo del tiramisù. Lo facciamo con le fragole. Iniziamo a tagliare le fragole. Io intanto vi do gli ingredienti per questo tiramisù. 200 g di savoiardi, 2 uova, 120 g di zucchero più un po', 250 g di mascarpone, 500 g di fragole e un limone. Gli ingredienti sono per gran parte simili al tiramisù classico, solo che questo ha il vantaggio di non avere il caffè. Quindi questo si può tranquillamente portare a tavola quando ci sono dei bambini o quando c'è qualcuno che la sera non può prendere il caffè. E poi in questo periodo le fragole sono meravigliose, quindi questo è un dolce che farà tantissimo successo sulle vostre tavole. Naturalmente abbiamo tagliato le fragole a pezzetti, le abbiamo leggermente zuccherate e bagnate con il succo di limone. Le facciamo a questo punto riposare una mezz'ora, 40 minuti, coperte con la pellicola, in modo che rilascino il liquido tipico delle fragole e si formi sulla base della ciotola a quel gustosissimo sciroppo. Ora dobbiamo preparare la crema al mascarpone, quella classica del tiramisù, non tutte quelle creme un po' finte per chi ha paura delle uova crude. Questa è la vera crema del tiramisù, quella che è super golosissima e che si fa con le uova fresche a crudo. Quindi due ciotole, dividiamo gli albumi da tuorli, gli albumi li montiamo a neve ben ferma, i due tuorli li andiamo con la frusta elettrica ad amalgamare bene allo zucchero, poi uniamo il mascarpone, frustiamo ancora con la frusta elettrica in modo da avere un composto bello spumoso che inizia a montare. Una volta ottenuto appunto questa crema bella liscia e profumatissima, vi assicuro, andate ad unire gli albumi montati a neve. Questi daranno subito leggerezza, li dovete, lo sapete benissimo, amalgamare dal basso verso l'alto, con dei movimenti circolari dal basso verso l'alto, in modo da non sgonfiare la sofficietà di questo composto. Questa è una crema super golosa. Iniziamo. Per prima cosa dobbiamo raccogliere in una ciotola tutto il succo che si sarà formato sotto alle fragole. Il succo delle fragole lo useremo per inzuppare i savogliardi al posto del caffè quando si fa un tradizionale tiramisù. E mi raccomando, i savogliardi vanno inzuppati davvero un secondo, anche meno, perché poi le fragole che metteremo nel tiramisù, negli strati sopra, rilasceranno durante il riposto di questo dolce ancora un pochino di acqua e rischiate che il tutto sia troppo molle. Quindi mi raccomando, davvero un secondo solo, anche meno il savogliardo pucciato nel succo di fragola e poi chiaramente lo sistemiamo sulla teglia come si fa per un normale e classico tiramisù. Alterniamo a questo punto, sopra i biscotti, alterniamo la crema al mascarpone. Sopra la crema al mascarpone mettiamo le fragole a pezzetti, e quindi sarà davvero un dolce molto molto fresco e anche di frutta, darà una, visivamente perlomeno darà un senso di leggerezza, ma in realtà stiamo mangiando un vero e proprio tiramisù. Messe le fragole andiamo a fare un secondo strato con i savogliardi, poi di nuovo crema al mascarpone e chiaramente andiamo a finire con le fragole. È qualcosa di estremamente goloso. Ora una raccomandazione doverosa quando si parla di tiramisù fatto con le uova fresche. Questo è un dolce che va conservato necessariamente in frigorifero ben coperto con la pellicola. Un'altra cosa, non portatelo in tavola appena fatto, così che lo andate subito a servire. No, perché ha bisogno di un tempo di riposo per diventare più buono, per stabilizzarsi un po', anche la stessa cremina si rassoderà un pochino, ha bisogno circa di due ore di riposo, naturalmente come vi dicevo, sempre in frigorifero coperto con la pellicola. Se vi avanza, non vi preoccupate che sia fatto con le uova fresche, va tenuto in frigorifero e va consumato sicuramente nel giro di tre, massimo quattro giorni. L'importante è conservarlo correttamente, sempre chiuso bene e sempre in frigorifero. È un dolce straordinario, non vi avanzerà, ve lo dico sicuramente, non vi avanzerà, è troppo buono, è fantastico. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, arrivederci alla prossima, un abbraccione. Grazie a tutti.